La prevenzione è fondamentale per provare a conservare un dono prezioso come quello della vista che chi non ce l'ha più, come noi disabili visivi, sappiamo bene davvero quanto sia fondamentale averlo. Ottobre è il mese della prevenzione, un'importante occasione per prendersi cura della propria vista ma anche per scongiurare altre patologie. Noi prevenzione la facciamo tutto l'anno, questo è il nostro compito, la nostra missione e di conseguenza lo facciamo giornalmente. Però è chiaro che ogni tanto bisogna richiamare l'attenzione del cittadino. La giornata mondiale della vista promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cicità sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica quest'anno si celebra giovedì 10 ottobre. Un'occasione particolarmente utile per poter seguire anche nel nostro territorio con i cittadini un'opportunità quella della prevenzione per noi particolarmente utile. Malattie che sicuramente possono essere limitate o comunque gestite senza la prevenzione non avrebbero opportunità di un intervento fattivo. Una giornata celebrata da Rezzo con visite gratuite in programma per il 10 ottobre destinate a soggetti di età superiore a 40 anni che non siano già in terapia per patologie oculari o non abbiano eseguito visite oculistiche negli ultimi due anni. La modalità nostra del territorio aretino che crediamo sia particolarmente efficace è quella di una forte collaborazione con l'ASLE Toscana Sud-Est quindi la nostra ASLE del territorio che con noi collabora fortemente ormai da decenni si può dire con l'iniziativa degli ambulatori aperti quindi visite gratuite destinate alla cittadinanza tramite prenotazione telefonica. Grazie a tutti.